Buona sera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto e ben ritrovati e ritrovate con questo nuovo videocorso dedicato a una nota risorsa a livello mondiale per la cosiddetta gamification, parlo di CAUT. Risorsa, lo dico subito, che non è certo nata ai tempi della pandemia, ma che esiste da anni e che come tale viene applicata anche curricularmente con successo da me e da molti colleghi per rendere in chiave ludica l'apprendimento. Questo videocorso in realtà possiamo farlo vedere anche ai nostri ragazzi perché noi creiamo un quiz interattivo e accattivante per loro, ma anche loro stessi possono creare dei quiz per i compagni in una ottica di cosiddetto peer tutoring, quindi una sorta di tutoring, di insegnamento tra pari per via dello stimolo che nasce da questa piattaforma. Allora, vediamo in questo videocorso la procedura per i docenti o per gli alunni creatori. L'indirizzo è importante da cui partiamo, sito web di riferimento, create.caut.it. Dunque non ho cercato CAUT semplicemente sul motore di ricerca. Dopodiché vi mostro che se è la prima volta che si accede a CAUT, allora la procedura corretta è quella di cliccare sul sign up in basso. Diversamente dal secondo accesso in avanti, noi clicchiamo direttamente qui sul bottone continue with google se accediamo con un account gmail o della google suite della nostra scuola, oppure ancora se abbiamo utilizzato una ulteriore mail di terza parte, come si usa dire, allora compiliamo i due spazi qui in alto. Chiaramente in funzione dell'assetto della nostra scuola, se vogliamo uniformare la procedura, possiamo anche accedere con un account della google suite, ad esempio, sia noi che gli alunni. Io ho un vecchio account su CAUT che non è google suite, quindi vado a completare i campi che state osservando in alto, clicco su login e attendo che si carichi la cosiddetta dashboard, la bacheca di CAUT. Sapete che non uso mai tecnicismi, però il docente digitale del nuovo millennio, oltre che un professionista della comunicazione, deve anche avere padronanza dei termini, degli obiettivi e delle procedure. Non può prendere una risorsa digitale ed utilizzarla in maniera casuale e empirica. Eccoci dunque giunti alla nostra bacheca. CAUT è in lingua inglese, io ho diversi quiz creati appunto nel tempo. Per partire, il nostro punto di partenza è quello di effettuare un clic sul create che abbiamo in alto a destra. Clicchiamo e a questo punto che cosa abbiamo? Allora, diversi volendo, cosiddetti template, cioè modelli da cui partire, ma in realtà suggerisco soprattutto per chi ad oggi non ha utilizzato CAUT e vuole prendere confidenza con lo strumento, di cliccare su create new CAUT, un modello bianco. Allora, attenzione bene. Primo movimento da effettuare, primo clic in alto su settings, pulsante blu. Io qui che cosa vado a fare? Intanto digito il title, il titolo nell'apposito spazio. Titolo della mia attività. Quiz sulla storia di internet. Ripassiamo i verbi. La seconda guerra mondiale. A nostra discrezione. Dopodiché nella descrizione opzionale vado a indicare la consegna. Ho una breve spiegazione del quiz che sto per effettuare. Ok? A destra in cover image io clicco su change e posso caricare, se presente sul mio dispositivo, una immagine personale di copertina della intera verifica cliccando su upload image. Se invece voglio provare a ricercare una immagine di repertorio presente nella library, quindi nella libreria di kaut stesso, vado a cliccare sul pulsante image library. Tale procedura va bene quando abbiamo immagini di carattere generalista da utilizzare, altrimenti consiglio sempre di scaricare, e ne parlo anche qui sul mio canale youtube trainer Andrea, tramite appositi videocorsi, immagini naturalmente utilizzabili per la didattica e libere da diritto d'autore, prelevandole da siti quali pixabay o pexels. Ripeto, ricercate qui il videocorso tematico su questa procedura. Io ora invece immaginandolo per disciplina tecnologia e con una domanda a campione, vado a digitare internet, poi clicco sulla lente, pulsante lente, e vedo che cosa ottengo. Attenzione bene, le immagini con la corona sono immagini che posso utilizzare passando ad una versione a pagamento di kaut. Ora io clicco su show more, mostra di più, e vi debbo dire che molte immagini in realtà soffrono di questo limite. Vi prego e vi invito a visionare la mia playlist qui sul canale della risorsa italiana che svolge gli stessi compiti di kaut, che si chiama pan quiz, e che è ottima. Qui ad esempio avremmo una grande scelta di immagini libere a nostra disposizione. Allora, vediamo un pochettino se cliccando su show more vado a ritrovare ancora qualche immagine free, ma siccome così non è, clicco su close. Ora apro una nuova scheda del mio browser. Vado a ricercare, ad esempio, su pixabay, lo vedete, pixabay.com. Una immagine legata ad internet, immagine assolutamente casuale nel nostro caso. Clicco su free download, scelgo una bassa risoluzione, clicco su download e tale immagine la avrò, ad esempio, nella mia cartellina dei download qui sul mio computer. Ripeto, questa procedura la trovate ben commentata in un videocorso ad hoc. L'immagine me la sono procurata, clicco su upload image, nella mia cartellina dei download ho la immagine che voglio come copertina dell'intera verifica. Vedete che appare, la descrizione vi dicevo è opzionale, dunque quiz per la classe terza E, due punti, vediamo se siete stati attenti durante la spiegazione di giovedì. A cosa serve CAUT? Come rinforzo delle competenze, ripasso, come strumento di monitoraggio in itinere, per verificare ad esempio con cadenza regolare se gli alunni hanno chiari concetti fondamentali di un argomento spiegato, come attività di verifica interattiva con apposita rubrica di valutazione perché poi avremo dei report, quindi avremo la possibilità proprio di esaminare i risultati dei nostri CAUT e questo lo vedremo in un videocorso ad hoc. A questo punto io clicco su done, tasto verde che significa fatto e vale come ok. Procedo ad inserire le domande. Prima domanda, click to start. Clicco all'interno di questo campo, vedete che abbiamo, perdonatemi, simboli, cioè pulsanti già idonei anche per la scrittura matematica, il pedice, l'apice, fdx, l'equation editor cosiddetto. Per le domande io posso solo formattare, cioè abbellire il testo della domanda utilizzando il blabil, bold, il grassetto, la ikelitalic, il corsivo. Rimaniamo a tema sul nostro esempio, quindi quando è nata la rete internet, punto di domanda. CAUT si basa sulla risposta multipla, ok? Allora, time limit, click, la gamification prevede tendenzialmente che ci sia anche un incentivo a rispondere di maniera corretta, tal incentivo può essere il tempo limite appunto. In secondi, in funzione degli alunni e dei contesti decidiamo noi quanti e quando. Per gli alunni BES ovviamente è auspicabile un ampio intervallo di tempo. Ora io clicco su 30 secondi. Rubrica di valutazione, no voti ma punti. Vedete che ho un interruttore che io sposto con il tasto sinistro del mio mouse premuto che va da 0 a 2000. L'idea qual è tanto per intenderci? 1000 è l'optimum, cioè se io rispondo bene e per primo nel minor tempo, il massimo punteggio a cui tendo è 1000, altrimenti la piattaforma stessa me ne assegna un altro. Sta a noi decidere come ci vogliamo regolare. Con 1000 si ha anche poi un certo ordine nell'impostare una rubrica di valutazione analoga. A questo punto, come abbiamo visto prima, eccoci qui. Questa al centro che noi possiamo inserire è la immagine non più di copertina dell'intero quiz ma della singola domanda. Ragion per cui, adesso lo rivediamo, io clicco su upload image, utilizzo anche francamente la medesima immagine di prima ed eccola qui. Morale della favola, non facciamo più di tanto conto nella versione free sulle immagini di repertorio ma sulle immagini personali. A questo punto ancora, colori. Sintetizzo, lo vedremo in un videocorso dedicato, nasce appunto oggi una nuova playlist dedicata a Kahoot. I ragazzi parteciperanno o a distanza con apposita modalità o in classe, in presenza, in sincrono, volendo anche in sincrono con noi tramite una piattaforma e i ragazzi con il loro tablet, smartphone o computer dovranno vedere la domanda. Facciamo l'esempio della classe in presenza per la secondaria di primo grado così lo avete chiaro. L'imma alle mie spalle, si vede la domanda con la immagine di copertina, si vedono le risposte, il colore a cui sono abbinate, i ragazzi partecipano preferibilmente con il loro dispositivo mobile e sanno che debbono premere, come fosse un enorme telecomando, rosso, blu, giallo o verde, in base alla risposta che desiderano fornire. Adesso io clicco su Heads Answer 1 e vado a digitare 1969. È la risposta corretta? Clic sul pallino. 2000. È la risposta corretta? Clic sul pallino. Posso andare con la multi selezione ad inserire anche più risposte corrette. Ora nel nostro caso non lo farò. Terza opzione 1978, quarta ed ultima opzione 1980. Mostro che ad ogni risposta, sempre per l'inclusione, è possibile abbinare in realtà oltre al colore della risposta una immagine che può venire mostrata, viene mostrata in ragione del testo. Mi spiego meglio. Caut può essere usata ebbene sì, con le debite e distinzioni, anche con i bimbi piccoli, quindi scuola dell'infanzia, primi anni della scuola primaria e a questo punto aiuta molto avere un'associazione visiva tra colore e anche immagine della risposta. Quale animale accompagna babbo natale? Esempio di domanda per i bambini più piccoli e al posto delle risposte testuali io metto l'immagine della renna, dell'orso, del lupo e del cane. Bene, la domanda 1 è attualmente correttamente inserita. Non faccio altro, volendo proseguire, che cliccare su head question, click, e ho la possibilità di procedere con ulteriori domande. A quel punto la sezione di nostro interesse, lo vedete, è quiz. Se io clicco su quiz, ho un nuovo blocco da utilizzare per una nuova domanda con nuove risposte. Nel mio caso vado ad eliminare questa sezione, così impariamo come fare. Vedete, domanda numero 2, pulsante bidone sulla domanda numero 2, conferma con un clic su delete, quindi cancella. Ripetete questa procedura per tutte le domande che siano necessarie, dunque un clic in alto a destra su zan, colore verde, dunque ok. A questo punto cosa vogliamo fare? Il cautta è pronto per essere riprodotto, per essere, vedete, ready to be played. A questo punto cosa voglio fare? Sono pronto? Sì, click play now. E in questo caso cosa faccio per farlo partire? Due scelte. Modalità teach, siamo in presenza, siamo su una piattaforma come Meet, Hub, Webex, eccetera, eccetera, eccetera. Tramite la modalità di proiezione schermo, i ragazzi vedono la domanda, tramite il loro dispositivo mobile o un'altra scheda del browser, rispondono, quello è teach. Ma per la didattica a distanza o per la DDI è stata introdotta nel tempo, questo pulsante e questa nuova funzione che è assign, lo dico letteralmente per l'amor di Dio, assegna, che in buona sostanza ricava un link, self-paced learning, e io quel link lo pubblico su Classroom o su WeSchool, negli ambienti di restituzione, perché loro lo facciano a distanza indifferita, quindi in un altro momento. Io ora immagino invece di farlo adesso, dunque clicco su Teach. E a questo punto, attendo alcuni secondi, quale modalità scelgo? Modalità Classic, questa fa supporre che ogni alunno abbia un suo dispositivo. Nel tempo è stata predisposta e rimane predisposta la modalità Team, per cui in realtà lo vedete dalla iconcina, io CAUT lo posso usare anche a squadre. A questo punto, chiaramente a rispondere sarà un dispositivo solo, immaginiamo, non so, classe divisa in due, due squadre, due soli tablet e la LIM. Chiaramente ci sarà un conciliabolo, come potete immaginare, vi faccio sorridere, molto tranquillo, ordinato in classe, e a quel punto poi ci vorrà un esecutore materiale che dia la risposta. Scelgo la modalità Classic, nel nostro caso. Bene, l'insegnante ora non deve fare altro che attendere, c'è anche questa simpatica musichetta che ci accompagna, tutte modalità tipiche della gamification, lo ricordo, grafica accattivante, linee moderne, effetto sonoro modalità premiale. Vedete? Ora cosa devono fare gli alunni? O usare la app di CAUT e digitare quel numero PIN che vedono in alto, oppure accedere tramite la scheda del browser a www.cahut.it, poi andare su Play o comunque ricercare la voce in cui inserire immediatamente il PIN. Io qui dove c'è Waiting for Players vedrò il nominativo dei miei alunni, i nominativi dei miei alunni e il numero degli alunni. Quando avrò raggiunto la quadra, cioè il numero corretto degli alunni che debbono svolgere il CAUT, andrò a cliccare su Start e a quel punto partirà il quiz. La parte alunni la vediamo appunto in un videocorso dedicato che uscirà a breve sempre qui sul mio canale. Iscrivendovi non avrete bisogno di mie comunicazioni e riceverete in automatico una notifica tutte le volte che vi sarà un nuovo contenuto e vi saluto mostrando i tre pulsanti in alto a destra. Primo pulsante full screen, due frecce, bene in classe, quando apro una risorsa web è bene proiettarla a schermo intero, così come le lavagne digitali è bene proiettarle a schermo intero perché ho la sensazione di occupare l'intera superficie, questa sensazione la devo trasmettere ai ragazzi perché non vi siano distrazioni. Pulsante sottostante, cambio la musica di questa stanza di attesa, lobby room, la stanza di attesa. Terzo pulsante, aggiusto perché posso tranquillamente abbassarlo e incrementarlo al volume della musica che altrimenti può piacere, non piacere, essere utile o meno accompagna l'intero caout. Quindi quando sono pronto non faccio altro che cliccare su start e a questo punto domanda 1, poi domanda 2, poi domanda 3, con i debiti tempi, io insegnante avrò i ragazzi che rispondono e partecipano e dopo ogni domanda ci si ferma perché cliccando su next è l'insegnante che va dalla domanda 1 alla 2 alla 3. Quindi il controllo nostro è totale ed ecco perché caout risulta gradito, risulta gradito perché comunque ci si diverte ma in realtà si impara. E questo assioma, cioè questa massima che ho appena pronunciato è peculiare della didattica digitale perché la didattica digitale non è mai un fine ma è un mezzo per arrivare ad un contemporaneo ed adeguato apprendimento da parte dei nostri ragazzi. Vi do già appuntamento al prossimo videocorso e un caro saluto come sempre da Andrea Cartotto. Ciao!